Allora, Teatro Agustare sempre per una visita inaspettata Daniele Sicilia Ciao Buonasera Grazie 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 Il personaggio da web Sì 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 Inaspettato anche che sia a teatro quasi C'è un teatro inaspettato perché invece c'è una famiglia bella Sì Amalgamata no? C'è la moglie che è così organizza tutto Fa il papà buono 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 Lavori eccetera eccetera Ha l'unico difetto che c'è il figlio bambocciona Sì Su figlio un po' sbampito A po' sbampito la sorella che c'è, è scioccata ha avuto uno shock clamoroso e poi improvvisamente che succede? Si scopre che su tuo conto corrente c'è qualcosa di finanza arriva probabilmente e lo scopriremo solo vivendo Battisti e il becca che praticamente è la parte cattiva di voi e da lì c'è tutto il risvolto comico e drammatico si gira la medaglia una famiglia che è sempre stata onesta attaccata diciamo alle buone regole, alle buone maniere si scopre poi uno più criminale di un altro, negli atteggiamenti nelle cose, senza voler fare spoiler poi ognuno caccerà il peggio di sé ti fai il tifo per Diabolic voi invece fai i furi o Gomorra? Un po' tutti e due un po' tutti e due, verremo poi presi anche da quest'onda di situazioni un po' criminale e criminosa, utilizzate anche il frasario di Gomorra, tipo Biv poco, poco però si verrà si verrà poi la citazione anche a questi sceneggianti e allora grazie a Daniele Cingli per la vista di aspettare da 25 fino al 25 di febbraio al Teatro Augusteio di Avri ciao grazie a Daniele Cingli ciao